Oggi gli immobili comunque sono in grossa parte vuoti. Allora il concetto dell'Hub Quarter ci porta a dire possiamo pensare un modello distribuito di luoghi e di esperienze? Sicuramente abbiamo capito che il mondo dell'ufficio, del lavoro cambia, i luoghi cambiano, ma abbiamo capito anche che stare a casa non è la soluzione ideale. Il dato di fondo che ci fa pensare a questa come una soluzione che è sostenibile e quindi poi può abbracciare temi di ESG è questo. Dopo il Covid il tempo di utilizzo di uno spazio di lavoro, di un ufficio, di una postazione rasenta il 5%. Quanto è il costo di quella stessa postazione del conto economico di un'azienda? risposta il 100%. Quindi c'è da un lato un sottutilizzo di quello spazio e dall'altra parte c'è un costo che va in qualche modo gestito. La possibilità di poter andare a lavorare in un posto di prossimità che non è casa, che non è l'ufficio, ma che è di prossimità. La tecnologia aiuta ad abilitarle le collisioni perché lo spazio viene reso fruibile attraverso la prenotazione, attraverso il booking anche delle esperienze. A Milano, così come a Parigi, si parla della città in 15 minuti. Sposare quel concetto, quel pilota della città in 15 minuti mettendo sopra un asse importante come questo favorisce trasformazioni anche di carattere urbano che stanno avvenendo.